L'acqua pullula di piragna. Beh, è facile. Basta evitare di entrarci. Devo trovare il modo di aprire la chiusa. Merda, il terreno è a fondo. Devo raggiungere la zattera. Deve esserci qualcosa per aprire la chiusa qui. Quella chiusa blocca la zattera. Deve esserci un modo per aprire. Figuriamoci se non c'erano delle lame. Non poteva essere così semplice aprire la chiusa. Devo stare più attenta. Non posso stare sulla zattera. Non ci passo. C'è mancato poco. Accidenti. Un'altra strettuia. Non ci passo. Ecco. Un'altra exema. Alcuna. Un'altra casiera. Un'altra casiera. Un'altra casiera. Un'altra casiera. Un'altra casiera. Un'altra casiera. Incredibile, questa porta è enorme, deve esserci un modo per aprirla. Va bene, troviamo un'altra strada. Merda, la zattera è di nuovo bloccata. Concentravi l'aera e trovo una soluzione. Perfetto, ora la zattera può proseguire. Lame, perché ovunque vada ci sono sempre lame? Un'altra porta, forse posso aprirla come le altre. Un'altra è chiusa bloccata, deve esserci un modo per aprirla. Non posso restare qui, le piattaforme affondano. Non posso restare qui, le piattaforme è un'altra strada. Perfetto vesteя, non posso restare qua. in diretta. Il merito e fluccata che lui fratelli. Finalmente, l'uccisore di dèi deve essere lì dentro. L'acqua si ritira. Devo aver attivato un meccanismo di sicurezza. Altri pericoli. Devo restare allerta. L'acqua si ritira. L'acqua si ritira. L'acqua si ritira. L'acqua si ritira. Deve esserci qualcosa che blocca il meccanismo della torre. Devo scoprire di che si tratta. L'acqua si ritira. 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 L'acqua si ritira.